Noi abbiamo bisogno di recuperare quelle procedure, quelle operatività che avevamo ancora con il governo Renzi con la cabina di regia che c'era a Palazzo Chigi sul rischio idrogeologico perché qui c'è bisogno di prevenzione, non c'è solo bisogno di intervenire quando ci sono i disastri. Gli albi dei fiumi vanno curati, c'è bisogno di trovare modalità per tenere i versanti delle nostre montagne puliti, c'è bisogno di un lavoro di prevenzione in cui bisogna che lo Stato sia accanto ai nostri sindaci. E' che quell'unità di missione è stata eliminata nel momento in cui doveva passare dagli investimenti delle aree metropolitane a quelle delle province, quindi diciamo di fatto tanta parte del territorio è rimasta fuori da investimenti significativi ed è la ragione per la quale noi vorremmo che venisse ripristinata e che potesse essere l'occasione per avere tanti finanziamenti anche alla luce della pagina del Recovery Fund che possano essere utili sia per quanto riguarda la sua guardia dell'ambiente che la sicurezza del territorio.